i demoni io non ci sto capendo un cazzo abbiamo due ospiti d'eccezione sì sì il primo ospite già l'avete conosciuto invece il secondo ospite è stato evocato prima della live noi abbiamo fatto un'evocazione io ho preso la tavola ouija e ho fatto voglio scatenare una maledizione contro tutubi evochiamo un personaggio scomodo per tutubi e ha spuntato franchino il criminale bella franchi buonasera buonasera a tutti ammazza che intro cringe che fate poi dite a me che so boomer cioè questa è una gringiata veramente unica comunque niente vabbè buonasera a tutti io trovo mister flame che è un top player ok e siamo d'accordo è proprio un top player oggi abbiamo registrato un video che ha fatto veramente il giocatore un marra che se non smette dalle nasce non passa più per le porte marra basta basta un fracico basta basta cioè nel senso d'atto è una regolata ma cioè no veramente base grosso grazie e poi c'è sta lì due dubbi che effettivamente proprio non capisco quanto è poco è veramente poco simpatico che non di antipatico non ne ho idea già solo quando ci siamo presentati che comunque insomma non è un mistero che me sta sul cazzo comunque per la vicenda cicalone purtroppo io so becchio a scuola ma che succede la vicenda hai fatto a cicalone niente niente comunque vabbè ma che vuoi ma tu che cazzo sei che cazzo vuoi cioè ma veramente ma come mai scherza così gioca gioca così io non sto nel rumore io davanti a me vedo una persona che non ho mai visto in vita mia che mi sa di cose di cui non so nulla io davanti a me invece vedo una persona che non ho mai visto in vita mia mi sono presentato cinque minuti fa già messo romper cazzo e poi subito hai fatto l'antipatico non è che subito messo romper cazzo io ho detto due cose giusto mi hai risposto subito mai mi hai detto delle cose quindi è una conferma di quanto sei antipatico tipico tipica persona l'atteggiamento di merda da ragazzino privilegiato con la puzza sotto il naso testa di cazzo c'è la tencelo io vabbè vai fuori vattene a fanculo vai via vai via 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 da casa mia ma che cazzo vuoi vai via dal mio studio ma inviato lui ma inviato lui è un top player e stima per marra e magari sti cazzi e sti cazzi cosa ma tu ti rendi conto a chi stai di sti cazzi no non io non so che tu sia cioè tu mi sono presentato a te cinque minuti fa lettera a me ho capito la chiave sta nel nome io sono arrivato qua al lavoro mi sono presentato una persona non ho mai visto in vita mia ho detto che sei una persona antipatica ho detto che sei una persona antipatica non sei simpatico pegnante cioè comunque hai esordito subito dopo la presentazione proprio con la faccia quella di merda che comunque sia è quella è oggettiva non è che se non è discutibile questa ragazzi sono arrivato io sono passato qua perché comunque stavo con lui e mi faceva piacere conoscere salutare ma molto piacere punto la mia comunque quando lui mi ha detto viene al cerbero io ho detto no guarda non ci vengo perché quel terzo non è che brilla per simpatia poi soprattutto purtroppo io sono vecchio a scuola sono un bumerone del cazzo per come si è comportato con il cicalone è meglio che non vengo perché se no infatti va a finire così e questa è una riprova che va a finire così perché non lo vedi come ti poni porta rispetto a quelli più grossi o cringes il mio punto di vista è questo già luca taci per favore il mio punto di vista è questo sono arrivato al lavoro mi sono presentato a questa persona e cinque minuti dopo dopo la sigla mi sta di queste cose la cosa di cicalone è una cosa che già luca mi ha detto qualche sera fa no un pomeriggio fa dopo la live la scorsa live con adriana siamo andati a rebac mi ha detto c'è sta franchino il criminale che ce l'ha a cotter ha detto in live per la cosa con cicalone ho fatto ma cicalone io non ci ho mai parlato in tutta la mia vita non ho mai avuto un minimo rapporto siamo io geluca e adriana e lui gli è steso il cazzo ah ok io non sono la minima idea di chi sia non ho mai visto in faccia flash forward a questo momento qua io sto nella mia trasmissione a sentire di queste cose una persona che non conosco quindi non ho altro da aggiungere ragazzi la cosa di cicalone è un mcguffin ottima gag grandi attori un applauso in chat bellissimi bravissimi anche cicalone che si è prestato a questo incredibile prank ha detto questo già luca ci dica dove dobbiamo andare in che direzione allora allora oggi faremo quello che non abbiamo fatto devo dire avvocato bene come villane funziona ciao Ciao Ciao